ciao a tutti io sono gianni benvenuti nuovamente qui sul mio canale per questo nuovo video flash col quale vorrei portare alla vostra attenzione l'ennesimo ribasso di prezzo per quanto riguarda quello che è ad oggi ancora il miglior tv box android in circolazione nvidia shield tv che è possibile acquistare per la versione con solo telecomando a un po meno di 148 euro si tratta per quanto di mia conoscenza del prezzo più basso di sempre che è possibile diminuire ancora visto che si tratta di un prodotto venduto e spedito direttamente da amazon utilizzando uno dei tanti codici sconto che a determinate condizioni amazon mette a disposizione dei propri clienti per quanto riguarda le caratteristiche nvidia shield a seguito di numerosi aggiornamenti che si sono susseguiti dalla data del rilascio che se non ricordo male sono stati più di 20 utilizza al momento l'ultima versione di android tv il sistema operativo di google pensato appositamente per l'utilizzo con le televisioni che ad oggi disponibile ad android 8 oreo il che significa chromecast e google assistant integrati e quindi la possibilità di trasmettere contenuti multimediali direttamente dallo smartphone e la gestione tramite comandi vocali oltre naturalmente alla piena compatibilità con tutte le applicazioni ufficiali di streaming presenti sul play store di android tv come ad esempio infinity team vision da zone e netflix per quanto riguarda quest'ultimo nvidia shield è un dispositivo certificato il che consente lo streaming ad una risoluzione massima che arriva fino a 4k per chi fosse interessato vi ricordo anche la parte gaming che attraverso il servizio geforce now permette di utilizzare shield tv come un vero e proprio pc da gaming detto questo per maggiori informazioni trovate tutti i link qui sotto in descrizione ci vediamo alla prossima ciao da gianni